Ancora ben trovati con il posto DG di Canale 3 Toscana, con me in studio il dottor Jacopo Grisoghi, psicoterapeuta, docente universitario e con noi per la presentazione di un evento che vedrà Siena al centro per un importante convegno dedicato alla psicologia e dedicato a un tema molto complesso, quello delle fobie. Tra l'altro le telecamere di Canale 3 saranno presenti, per una ripresa integrale, quindi chi non potrà andare a Palazzo Patrizzi potrà rivedere tutto il lavoro delle persone che interverranno a questo evento. Evento che vede al centro un tema complesso, nelle diagolerete con un massimo esperto. Sì, dialogheremo su un tema molto caldo, su un tema molto importante, cioè il tema delle fobie. A parlarne sarà, e questo è un onore per tutta la città, sarà Giorgio Nardone, cioè uno dei massimi esperti, non dico una cavolata, se dico a livello mondiale di fobie e ossessioni. L'evento, la conferenza è organizzata, ho avuto l'onore di poterlo organizzare io, insieme a altre due mie colleghe anch'esse affiliate al centro di terapia strategica di Arezzo, il cui appunto direttore Giorgio Nardone. Erika Console e Eleonora Forconi saranno insieme a me alle prese nelle organizzazioni di questa conferenza. A Palazzo Patrizzi il tema è appunto un tema estremamente complesso, che ha ovviamente tantissimi livelli di analisi e anche di intensità poi di patologie psicologiche. Vogliamo fare un po' una panoramica, quali saranno anche i punti cardini che andrete a toccare in questo confronto? Sì, in questo incontro il professor Giorgio Nardone tratterà quella che possiamo considerare la paura all'ennesima potenza. Che cosa è la fobia? La fobia è una paura portata all'ennesima potenza che porta il soggetto a perdere il controllo, che impedisce alla persona di poter vivere il presente e quindi di poter, nemmeno di poter vedere il futuro. Consideriamo che la fobia, le fobie, perché poi questo è un punto molto importante, considerate che Giorgio Nardone è appunto massimo esperto di questo tema, negli ultimi 40 anni si è occupato di tutta una serie di disturbi psicopatologici, tutte le psicopatologie tra le quali appunto in primo piano fobie e ossessioni e nel corso di questi decenni ha scritto sei libri proprio sul tema delle fobie, ne ha scritti tantissimi altri e tantissime altre pubblicazioni su altre psicopatologie, ma solo sul tema delle fobie ha scritto sei testi. Questo per quale motivo? Questo ci fa riflettere in quanto sia per noi psicoterapeuti ma anche per l'opinione pubblica è bene sapere che nel corso del tempo le fobie hanno cambiato veste, quindi è importante aggiornarci e rendere noto l'argomento al vasto pubblico perché le fobie che si vivevano venti anni fa sono ben diverse da quelle che viviamo oggi. Pensiamo ad esempio al forte impatto della tecnologia, pensiamo al forte impatto dei social media, pensiamo a tutto quello che è stato il cambiamento della nostra realtà e di conseguenza anche delle nostre patologie. La paura per non avere la connessione sempre disponibile che potrà sembrare una banalità ma non lo è affatto perché è una delle paure più diffuse in questo momento. Ovviamente 30 anni fa non poteva esistere, così come il cybersex, altro disturbo che 20-30 anni fa non aveva nemmeno modo di potersi esprimere. Questo per dire che la fobia non è che si esprime solo e soltanto in un'unica veste ma attraversa tutta una serie di psicopatologie che possono andare dalla monofobia, quindi la fobia, la paura rivolta a un oggetto, a una situazione specifica. Si può parlare di fobia sociale, possiamo parlare di fobie relazionali quando ad esempio si ha paura di essere traditi dal partner, possiamo parlare di attacchi di panico oppure di ansia generalizzata senza attacchi di panico, possiamo parlare addirittura di deliri fobici, quindi come vedete il tema fobia è trasversale a tante tante psicopatologie e quindi diventa importante affrontarlo e poter dare chiare indicazioni alle persone. Per quanto riguarda adolescenti e minori, questo è un altro tema complesso legato al mondo delle fobie. Questo è un tema molto importante perché anche recenti dati hanno suggerito che tra il 20 e il 30% gli adolescenti ne sono affetti, il 20 e 30% è tanto, non che il resto della popolazione ne sia esclusa, anche perché è bene dire che le paure patologiche, quindi quando parliamo di fobia parliamo di paura all'ennesima potenza che diventa patologia, è un disturbo estremamente democratico e estremamente trasversale. Ne sono colpiti affetti premi Nobel quanto persone non acculturate. Quindi questo riguarda sia fasce stratificate della popolazione ma anche età diverse. Negli adolescenti e nei minori un ruolo molto importante lo stanno giocando l'eccessivo uso delle varie strumentazioni tecnologiche che più che essere utilizzate sono esse stesse che stanno utilizzando molti dei nostri ragazzi. Notizia recente in Gran Bretagna è stato vietato l'utilizzo a scuola, cosa che in realtà in parte lo sarebbe anche in Italia. Allora questo è un piccolo escursus e ovviamente ringrazio il dottor Grisola che per la disponibilità di averci raggiunto qua nel nostro studio del telegiornale. L'evento si terrà il 26 febbraio alle ore 21 all'interno della meravigliosa cornice di Palazzo Patrizzi, quindi nel cuore del Centro Storico di Siena. Avete il patrocino tra l'altro del Comune di Siena, quindi un evento aperto alla cittadinanza. Ripeto, a chi non potrà recarsi potrà vederlo nella programmazione dei giorni successivi su Canale 3 Toscani, noi saremo presenti per una ripresa integrale. Dottore, intanto grazie per questa testimonianza, ovviamente un saluto anche alle sue colleghe che insieme a lei hanno dato vita all'organizzazione di questo evento. La psicologia è ovviamente sempre più importante, siamo in una società sempre più complessa in cui siamo sempre tutti più fragili, quindi parlare a voce alta con dei massimi esperti di questi temi è veramente rilevante, quindi ci fa piacere poter essere una cassa di risonanza. Quindi 26 febbraio alle 21 Palazzo Patrizzi, l'evento dedicato alle fobie. Grazie al dottor Crisola che per essere state con noi, grazie a voi per l'attenzione e vi auguro ovviamente una buona prosecuzione con i programmi di Canale 3.